buongiorno a tutti oggi iniziamo un esercizio su express che poi continueremo la settimana prossima aggiungendo la parte di fetch e quindi collegando il nostro client simile a quello che abbiamo realizzato la settimana scorsa con il nostro server rest che realizzeremo questa settimana ricordiamoci da dove partiamo noi partiamo da questo client che mostra la lista dei nostri esami mostra dei filtri per anno dei nostri esami e nella lista dei nostri esami noi possiamo avere abbiamo la data in cui abbiamo sostenuto l'esame abbiamo il nome dell'esame il nome del corso per cui abbiamo sostenuto quell'esame abbiamo i credit del corso e abbiamo il voto che abbiamo preso quando abbiamo sostenuto questo esame una cosa che possiamo aggiungere possiamo immaginare di avere e avere come nel laboratorio un bottone più che ci permette di aggiungere un nuovo esame man mano che lo recuperiamo man mano che lo sosteniamo e quindi possiamo immaginare di avere un bottone più in questa interfaccia cosa che faremo la settimana prossima nell'esercizio della settimana prossima un bottone più in questa interfaccia che ci permette di aggiungere un esame questo perché possiamo per esempio inserire che il 15 luglio del 2020 abbiamo superato l'esame metodologie di programmazione per il web che vale 6 crediti con il voto di 30 lode e quindi ovviamente questo dobbiamo aggiungerla allo stesso modo possiamo immaginare di voler modificare questa riga perché magari abbiamo inserito il voto e abbiamo deciso di fare un orale che ci aumentasse questo voto o di eliminarlo perché di nuovo abbiamo l'avevamo inserito nella nostra versione degli esami e poi abbiamo deciso magari di rifiutare il voto e di risostenerlo a un appello successivo quindi vogliamo fare delle operazioni su questa pagina vogliamo avere la lista di tutti gli esami vogliamo magari avere i dettagli su un singolo esame vogliamo inserire un nuovo esame sicuramente e vogliamo magari cancellare e modificare una di queste righe quindi queste sono le operazioni e vogliamo ovviamente filtrare per anno quindi tutti gli esami tutti quelli del 2020 tutti quelli del 2019 e così via quindi prepariamo oggi il nostro server che ci fornisca queste informazioni di più immaginando che noi vogliamo aggiungere un esame quindi qui ci sia un bottone più da premere magari non vogliamo inserire il nome degli esami dei corsi a mano ma potremmo per esempio prenderli da un elenco di tutti i corsi che sono nel nostro carico didattico che sono nel nostro piano di studi e quindi riempire automaticamente quando premessimo un più il nome di questo esame così come i crediti dell'esame perché queste informazioni sono informazioni che noi abbiamo che noi sappiamo ben prima di sostenere l'esame quindi oggi prepariamo quantomeno una prima versione di questo di questo server che fornisca questi dati alla nostra applicazione web alla nostra interfaccia web che come dicevo prima collegheremo al nostro server la prossima settimana quindi invece di leggere un array javascript da un file nel client lo chiederemo queste stesse informazioni al nostro server ovviamente per fare per fare ciò nel nostro server abbiamo bisogno di memorizzare le informazioni sugli esami sui corsi da qualche parte e questo qualche parte come immaginerete è un database un database sqlite questo è uno screenshot preso da questo software sqlite browser.org che è già linkato nelle slide e allora questo è il database che io ho creato è un database abbastanza semplice contiene due tabelle una che si chiama corsi e una che si chiama esami corsi ha una chiave primaria che ho chiamato code che il codice del corso che è un testo in quanto il codice del corso sarà mf qualcosa c'è un nome del corso metodologie di programmazione per il web e ci sono dei crediti formativi associati al corso quindi per esempio nel database abbiamo che la tabella corsi a questi corsi che sono i corsi del secondo anno di informatica in Alessandria alcuni di questi corsi li avrete già superati perché sono corsi del primo semestre o comunque gli esami li avete già sostenuti ho provato a sostenere quanto meno mentre altri sono corsi del secondo semestre e quindi non avete ancora sostenuti tipo metodologie di programmazione per il web la tabella esami invece è lievemente più complicata la tabella esami ha una chiave primaria che è un id un identificativo univoco dell'esame ha poi il codice del corso a cui l'esame si riferisce e questo codice del corso vedete qui è una chiave esterna che si riferisce al codice del corso nella tabella corsi questo perché ovviamente noi inseriamo un esame le informazioni su un esame per un corso specifico che abbiamo non ha senso che noi inseriamo anche nel mondo non nella pratica noi non possiamo inserire il superamento di un esame se l'esame non è nel nostro carico didattico non è nel nostro piano di studi dobbiamo averlo inserito nel piano di studi prima di poter sostenere quell'esame quindi questo course code è collegato è una chiave esterna di questa tabella che punta a code della tabella corsi poi ci sono le altre due informazioni che ci servono nella tabella exam la data in cui abbiamo sostenuto l'esame e che voto abbiamo preso e nel nostro database se andiamo a selezionare la tabella esami vedete che in maniera analoga a quello che c'è nella nostra applicazione web che abbiamo realizzato la settimana scorsa abbiamo tre corsi tre codici di corsi che sono ovviamente di nuovo le stesse gli stessi della della settimana del gli stessi esami che abbiamo superato la settimana scorsa la data in cui abbiamo sostenuto l'esame quando abbiamo preso è un identificativo che è incrementale uno due tre quattro in base a come sono stati sostenuti e vedete questo è effettivamente collegato alla tabella perché appunto è una chiave esterna che ha un reference su questo code di questa tabella quindi questo è il nostro database ora quello che noi vogliamo fare è strutturare un server con Express che legga questo dataset e esponga tramite API REST che abbiamo visto nel video queste informazioni a un eventuale client che come ho detto sarà quello che abbiamo sarà una modifica di quello che abbiamo realizzato la settimana scorsa allora come sarà strutturata la nostra applicazione Express come la strutturiamo cosa ci aspettiamo sia per oggi che per ovviamente la settimana prossima la nostra applicazione sarà composta di due parti principalmente una questa di qui che sarà la parte relativa al server e questa di qui sotto che sarà la parte relativa al client in particolare avremo una cartella che si può chiamare come volete in questa slide è chiamata example nel nostro caso sarà chiamata es-express esercizio express che sarà il nome del progetto e questa cartella conterrà il progetto l'intero progetto con il file package.json con le eventuali dipendenze e configurazioni avremo poi un file che possiamo chiamare server.javascript che è la nostra server application che è la nostra applicazione che importa Express e utilizza Express per esportare le root per creare file json eccetera 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 potremmo poi avere sempre in questa cartella altri file javascript che ci possono servire per magari non avere tutto dentro server.js che sono tipicamente moduli javascript personalizzati questi moduli si importano con require e si esportano con module.export perché siamo nel mondo node non siamo nel mondo browser quindi lo stesso import ed export dei moduli che abbiamo visto quando abbiamo parlato di javascript settimane fa ricordate che in node bisogna usare require e module.export mentre in S6 si può usare import ed export normalmente ma node non supporta ancora quella sintassi di S6. poi avremo una cartella e questa cartella l'avevate anche nel primo laboratorio del corso che sono i moduli che sono installati da npm e che sono visibili dal nostro file server.js e che possiamo importare sempre con require il nome del modulo e per oggi ci fermiamo qui. La settimana prossima aggiungeremo in questo nostro progetto vedete la stessa cartella una cartella che si chiama client che fornirà tutte le risorse client side statiche quindi non generate dal server e all'interno di questa cartella client metteremo il nostro HTML, la nostra applicazione che abbiamo realizzato appunto la settimana scorsa col main.javascript, con l'app.javascript, con lo stile eccetera 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 e sempre la settimana prossima da questa applicazione andremo a chiamare le API, le root fornite da server per avere le nostre informazioni in formato json. Notate che nel momento in cui possiamo aggiungere questa cartella questa applicazione web viene fornita, viene servita dal nostro server se ovviamente diciamo ad express di farlo quindi non è più un qualcosa che noi facciamo doppio clic sul computer e apriamo con un browser ma il server che lo fornisce la pagina HTML, le pagine CSS, javascript e quant'altro ha l'indirizzo localhost, due punti qualcosa, una qualche porta, slash index.html dato che a questo punto HTML, javascript e quant'altro sono forniti dal server e non sono più letti da disco sul vostro computer noi possiamo anche qui in questi file javascript utilizzare i moduli e quindi importare ed esportare le informazioni, le variabili, le classi, le funzioni e quant'altro da un file javascript all'altro con import ed export se servisse cosa che fino alla settimana scorsa non potevamo fare proprio perché questa parte il nostro sito web non era fornito, non era servito da un server ok, quindi iniziamo a fare qualcosa come solito io ho il nostro progettino giusto per ricordarci di cosa abbiamo bisogno in realtà l'abbiamo già visto nelle slide quindi ci serve fino a un certo punto e ho aperto la documentazione sito di express per la sua documentazione nel caso servisse e la documentazione di SQLite per node prima di tutto impostiamo il nostro progetto abbiamo visto ieri nel video caricati in questa settimana che possiamo fare per iniziare dobbiamo fare npm init npm init ci chiede alcune informazioni come abbiamo detto ieri per esempio il nome del progetto e a me va benissimo chiamarlo es express la versione va bene 1, la descrizione lasciamola vuota l'entry point però chiamiamolo server.javascript, non index il test command lasciamolo vuoto, nessun repository, nessuna keyword, l'autore riempiamolo la licenza va bene quella di default a questo punto esattamente come abbiamo visto nei video passati abbiamo un package.json, un file package.json che contiene queste stesse informazioni che abbiamo creato a questo punto installiamo le dipendenze che ci servono ci serve sicuramente express quindi npm install express e facciamo installare express ci serve sicuramente SQLite3 per accedere al nostro database che tra l'altro è già nel progetto in questa cartella in questo file che si chiama exams.db i database SQLite3 possono chiamarsi come volete .db o .sqlite3 sono entrambe estensioni riconosciute per SQLite3 e qui dentro c'è quel database c'è questo database che vi ho fatto vedere questo database è quel file che stiamo vedendo che è questo file qui visibile dentro Visual Studio Code e ci serve poi possiamo fare npm install di morgan che era quel middleware di express per avere i log di quello che succede e poi possiamo installare per comodità anche npm install node mon node mon è un pacchetto lo installiamo a livello globale quindi con meno g quindi a livello di sistema operativo in modo che sia disponibile a tutti i progetti che faremo da oggi in poi node mon è uno utility che ci permette di lanciare il nostro server e man mano che facciamo modifica il nostro server lui automaticamente lo ricaricherà senza doverlo rilanciare quindi possiamo modificare il nostro il nostro codice senza dover tutte le volte stoppare server far ripartire server fare run tutte le volte si preoccupa lui ogni modifica di ricaricare il tutto quindi installiamo a livello globale così è disponibile nel sistema operativo e non dobbiamo installarlo progetto per progetto allora se noi andiamo a vedere il nostro file package.json vedete che nelle dipendenze abbiamo express, abbiamo morga, abbiamo SQLite non c'è node mon perché node mon è appunto installato a livello globale quindi a livello di intero sistema operativo a questo punto possiamo creare il nostro file server.javascript server.js e possiamo inserire riduciamo il terminale possiamo inserire lo scheletro di un'applicazione express quindi const express uguale require importiamo express che abbiamo appena installato e a questo punto mettiamo subito gli import all'inizio quindi questi sono tutti gli import importiamo anche morga che è il nostro di nuovo middleware per il log già che ci siamo importiamo anche SQLite che di nuovo ci servirà a un certo punto quindi di nuovo require è il nome del pacchetto della dipendenza che abbiamo installato e a questo punto inizializziamo app const app uguale express come ci dice la documentazione di express vedete definiamo quale porta vogliamo che venga utilizzata utilizziamo la 3000 che è quella di default di express a questo punto possiamo impostare i middleware quindi app.use morgan morgan ha bisogno di un parametro che dice vedete qual è la tipologia di log output e tiny è una di queste la più semplice la più compatta se volete e qui scriveremo adesso punto le nostre root e in fondo alle root dopo aver scritto le root facciamo appunto app.listen port quindi 3000 e questo vuole poi una callback e questa callback possiamo utilizzare quella questa qui definita in questo esempio in questo hello world di express quindi console.log magari non example app ma potremmo chiamarlo server listening at http due punti barra barra localhost due punti 3000 due punti la porta e quindi potremmo metterlo in un template string e quindi qui andare inserire dollaro parentesi graffa port quindi questa variabile la stampiamo qua quindi il server è in ascolto all'indirizzo localhost quindi 127.001 sulla porta 3000 che è la porta che abbiamo definito qui e questo chiamiamolo activate the server forse è meglio che non start ok a questo punto abbiamo impostato express verifichiamo che express funzioni allora facciamo prendiamo questa root che è una root una get di default e mettiamola qui giusto per verificare che funzioni cosa fa questa root? questa root se facciamo una richiesta get a localhost due punti 3000 dovrebbe risponderci hello world quindi riprendiamo il nostro il nostro browser scriviamo localhost due punti 3000 che adesso ovviamente non funziona perché non l'abbiamo ancora lanciato come lanciamo il server e dato che abbiamo il server questo server punto javascript è un programma javascript quindi non si può lanciare come tutti i programmi javascript normali con run diviso studio code scrivendo nod e il nome del file javascript da lanciare in questo modo e infatti se facciamo così ci dice che ci manca una parentesi ok se facciamo così e scriviamo tutto giusto ovviamente quindi anche require ok il server parte e vedete dice server listening at localhost due punti 3000 quindi se aggiorniamo questo vedete che qui viene stampato hello world che è quello che abbiamo mandato qui e qui nel log ci viene scritto che abbiamo ricevuto dal browser al server una get sulla root quindi su localhost 3000 che la risposta è stata un 200k questo è il codice di risposta http 200k e che abbiamo traspirato 12 byte e che la risposta è avvenuta in 2000 secondi quindi tutto funziona dove entra nodmon? nodmon entra nel fatto che se io adesso questa aggiungo una root e dico la chiamiamo ciao e qui invece di hello world scriviamo ciao e salvo e qui vado a dire slash ciao lui ovviamente mi dà errore dice non c'è un ciao eppure io l'ho scritto nel codice perché? perché ovviamente devo far ripartire il server per fare questa operazione quindi bisogna stopparlo e ridire node server.javascript se usiamo nodmon nodemone per lanciare server invece di nod lui lancia comunque il server nell'ultima versione quindi adesso ciao funziona funziona anche la root ma la differenza è che se noi modifichiamo e questo lo chiamiamo benvenuto e salviamo vedete nodmon si accorge che abbiamo salvato e fa ripartire il server quindi se noi adesso andiamo su benvenuto benvenuto vedete che funziona quindi non abbiamo bisogno di far ripartire il server a mano ma si preoccupa nodmon di farlo ripartire questa è una comodità quando sviluppiamo ora abbiamo impostato il nostro progetto e generiamo le root che ci servono secondo rest quali sono queste root che ci servono? ricordiamo il nostro qui che cosa vogliamo fare? vogliamo prendere gli esami dal nostro database vogliamo prendere magari corsi per quando andremo a inserire gli esami e poi ovviamente inserire la data e quant'altro partiamo da vogliamo prendere quindi dobbiamo definire alcune root per esempio possiamo definire una root usiamo la stessa uso la stessa sintassi una sintassi simile per descrivere le root per progettare le root che vi chiedo di seguire nel laboratorio così avete un esempio decidiamo cosa vogliamo fare vogliamo recuperare recuperare tutti i corsi nel nostro piano di studi come recuperiamo i corsi in rest i corsi sono una risorsa noi possiamo dire che abbiamo due risorse nel nostro nel nostro per il nostro sito per la nostra applicazione sugli esami una risorsa è sicuramente l'esame e l'altra risorsa è il corso perché l'esame è un qualcosa che viene fatto a partire da un corso se il corso non esiste non esiste neanche l'esame quindi le nostre risorse sono due scriviamole qui risorse sono corso e esame quindi partiamo dai corsi cosa potremmo avere bisogno? potremmo avere bisogno di recuperare tutti i corsi nel nostro piano didattico come recuperiamo tutti i corsi dato che corsi è plurale in rest è una get ha un indirizzo che è courses quindi una get ha la collezione della risorsa corso che è corsi al plurale ci restituisce l'informazione e la lista dei corsi qual è il corpo qual è la richiesta che facciamo il request body il request body in questo caso non c'è è vuoto meglio perché è una get quale sarà la risposta quale sarà la risposta? la risposta potrebbe essere un json in cui abbiamo l'elenco dei corsi quindi abbiamo potremmo potrebbe essere un array in cui c'è per ogni ogni elemento di un array è composto da codename e cfu vediamo se posso copiare da qua ok sarà per esempio un array in cui il primo elemento sarà cod due punti due punti quindi in json quindi virgolette doppie cod due punti così virgola name due punti basi di date sistemi informativi virgola cfu due punti nove che non ha bisogno delle virgole e poi virgola e un altro un altro un altro corso e così via e poi possiamo chiudere a quel punto l'array in genere in json quello che si fa è si aggiunge davanti agli array quando si parte da vuoto una variabile una chiave in un certo senso che indichi che cosa abbiamo dentro l'array quindi corsis uguale al nostro array quindi questo è il response body e abbiamo quindi qual è l'API che cosa vogliamo fare che cosa mandiamo nella richiesta niente solo la url e qual è la risposta che ci attendiamo una risposta strutturata in questo modo quindi un array di tanti corsi ok poi cosa potremmo fare potremmo voler recuperare un corso dato il suo codice questo è questo è in rest un il recuperare una singola risorsa che fa parte di una collezione quindi è un get su collezione slash id della collezione un corso ha sicuramente un codice e il codice è sicuramente univoco all'interno del piano degli studi quindi si può usare il codice come come identificativo anche in questo caso quale sarà la request body nessuna perché è una get quale sarà la risposta la risposta sarà simile a quella di prima solo che invece di avere un array di corsi avremo se chiediamo il il se facciamo una richiesta per esempio se facciamo una get a slash corsi slash mf la risposta che otterremo sarà questa cosa succede se facciamo una una get a un corso che non esiste per esempio una get a slash courses slash 15 dove 15 ovviamente non è un codice di corso beh due cose succede una otteniamo un 404 not found quindi utilizziamo i codici dei http per fare appunto gli errori per gestire gli errori e avremo anche un corpo magari della richiesta della risposta sempre in json che dirà che sarà fatto come error due punti la risorsa il corso non esiste quindi è un not found manderemo un 404 nel ladder e il body della risposta nel caso dell'errore sarà il corso non esiste cos'altro possiamo fare sui corsi ci serve aggiungere un nuovo corso dal nostro sito web probabilmente no perché il corso sarà quello del piano degli studi quindi ci sarà rilasciato dall'università ci serve cancellare un corso non nel nostro non nella nostra gestione degli esami in questo momento e modificarlo magari no se immaginiamo a che corsi ci vengono dati ovviamente dall'università e quindi noi li troviamo là quindi una volta che abbiamo fatto un piano degli studi non lo modifichiamo più quindi potremmo provare a scrivere l'API per l'altra nostra risorsa che sono gli esami cosa abbiamo bisogno per gli esami ricordandoci la nostra ricordandoci questa abbiamo sicuramente bisogno di avere tutti gli esami abbiamo detto abbiamo bisogno di aggiungere un nuovo esame e magari avremo bisogno di cancellare o modificare le informazioni di un singolo esame è difficile no? se immaginiamo questo caso d'uso avere un dover avere bisogno delle informazioni su un singolo esame però abbiamo già visto come si fa quindi se vogliamo recuperare tutti i nostri esami cosa dobbiamo fare? come prima get su exams e avremo come prima un request body vuoto e un response body che sarà molto simile a quello solo che invece di avere i corsi e i corsi avremo exam il codice il nome i crediti e il voto se volessimo recuperare un singolo esame le informazioni di un singolo esame potremmo come prima fare una get a exams slash code perché di nuovo dato che gli esami dipendono dai corsi se il corso è ha un certo codice che è univoco l'esame e eredite hanno quello stesso codice univoco oppure potremmo utilizzare l'ID visto che abbiamo definito quell'ID nella tabella così anche da dividere gli esami dal codice quindi usiamo l'ID per esempio per accedere all'esame l'importante è che questo sia univoco per la questa collezione e così via il request body dato che una get sarà sempre vuoto e la risposta sarà molto simile a quella di corsi cosa succede se vogliamo creare un nuovo esame cioè aggiungere un nuovo esame alla nostra tabella perché abbiamo sostenuto un esame e quindi dobbiamo adesso registrarlo allora se il get serve per recuperare informazioni il post serve per creare un nuovo esame per creare una nuova risorsa e quando creiamo una nuova risorsa la creiamo sulla collezione perché perché noi ovviamente non potremmo dire post su exams slash ID per il semplice fatto che noi non sappiamo ancora qual è l'ID del nuovo esame sappiamo per quale corso abbiamo sostenuto l'esame ma non abbiamo ancora idea di quale sia l'identificativo univoco di quell'esame qual è l'istanza di quell'esame quell'esame è stato superato a febbraio 2020 proprio quello lì non un altro quindi una post serve a creare una nuova risorsa partendo dalla sua collezione e questi copiamoli da qui così li abbiamo fatti qual è il request body? questa volta ci sarà un request body questa volta il request body sarà per esempio qual è il codice dell'esame qual è il nome dell'esame quali sono i crediti e qual è il voto dell'esame per esempio oppure oppure potremmo semplicemente dare solo il codice e il voto è più importante che mancava anche prima la data in cui abbiamo sostenuto l'esame quindi 2020.02.16 per esempio quindi potremmo passare le informazioni minime che ci servono per caratterizzare un esame per esempio lo score e il voto e la data e quell'informazione univoca che ci collega all'esame con un corso specifico che nel nostro caso è il codice oppure potremmo immaginare di un request body che abbia di nuovo anche il nome dell'esame anche i crediti formativi quindi è una scelta che facciamo noi perché siamo noi che decidiamo come sono fatte le nostre API e quindi chi svilupperà poi il sito web o il client di questo nostro server dovrà leggere questa documentazione dovrà leggere questa descrizione che stiamo creando adesso al volo e sapere che per esempio per creare un nuovo esame non dovrà passare il nome e i credit dell'esame perché? perché si preoccuperà il server di andare a cercare se un corso di questo tipo esiste e se esiste creare l'esame corrispondente se non esiste ritornare un errore e l'esempio può essere l'esempio facile perché post su exam se va tutto bene qual è il response body? se va tutto bene il response body è vuoto non esiste perché è la creazione andata a buon fine al massimo potreste passare l'id dell'esame che avete appena creato però è di nuovo è a scelta questo tipicamente in una post il response body è vuoto e l'header http è a 200k in caso di errore potremmo generare di nuovo un errore http con la descrizione di qual è l'errore per esempio il corso non esiste potrebbe essere un qualcosa nella serie 300 dei codici http cos'altro potremmo fare potremmo voler giusto come esempio cancellare un esame perché magari abbiamo deciso di rifiutarlo però l'avevamo già inserito nella nostra applicazione come si cancellano le cose in rest è un delete sulla collezione slash l'identificativo dell'esame perché vogliamo cancellare quella collezione un delete di tutta la collezione così come un aggiornamento con un put di tutta la collezione sono cose sconsigliate potremmo cancellare un esame e di nuovo non c'è bisogno come qui di nessun request body e tipicamente non c'è neanche bisogno di nessun response body perché ci basta il 200k dell'http facciamo ancora un esempio e poi iniziamo a sviluppare queste parti se noi volessimo aggiornare le informazioni di un esame sostenuto perché magari abbiamo inserito 30 e ci siamo sbagliati e abbiamo preso 29 e ci siamo sbagliati o abbiamo inserito 30 lode e abbiamo inserito 30 dovevamo inserire 30 lode e abbiamo dato invio prima del tempo o abbiamo sbagliato data abbiamo scritto gennaio invece di febbraio una svista allora come aggiorniamo le informazioni le informazioni si aggiornano con una put sulla collezione slash l'identificativo univoco per quella collezione quindi put exams 2.id il response body di nuovo sarà se tutto va bene sarà vuoto il request body sarà l'intero esame con le informazioni ovviamente aggiornate notate che una put per secondo lo stile rest deve aggiornare l'intera risorsa non può aggiornarla parzialmente nella pratica quello che si fa a volte è accettare anche put parziali il metodo http corretto per aggiornare risorse in maniera parziale sarebbe utilizzare patch quindi se io volesse aggiornare solo il voto di un esame dovrei scrivere patch sulla risorsa però patch è un metodo http è abbastanza diciamo così non interamente supportato o supportato da poco quindi si rimane sui metodi http classici get, post, put e delete ok con questo possiamo adesso iniziare a sviluppare alcuni di questi metodi andando a prendere le informazioni alcune di queste route andando a prendere le informazioni che ci servono dal database e poi ci sono un video che ci sia un video a ripetere le informazioni che ci servono dal database e poi ci vediamo alla prossima e poi ci servono dal database Grazie.